Siamo stasera a Soveria all'evento conclusivo del progetto MusicArte. Sarà con noi il gruppo da camera dell'Orchestra Giovanile della Calabria. Si esibirà in un programma molto carino e particolare. È stato studiato apposta per avvicinare in particolare i giovani alla musica. Verranno presenti degli strumenti e verrà fatto sentire il suono di ciascuno strumento. Sono tutti musicisti giovani, non ancora diplomati, ma che già fanno tantissimi concerti, hanno già un'esperienza quasi da musicisti professionisti. Sarà con noi oggi anche un rappresentante di Enel Quore Onlus, il dottore Trapasso, che è l'ente finanziatore di questo progetto, che è durato due anni e è partito nel 2017, si concluderà a giugno. Il 21 giugno faremo poi il MusicArte Festival, che sarà proprio la manifestazione conclusiva. Grazie.